musica 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 salve genti e benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale un grande ritorno Federica sul web l'avete voluto l'avete tanto aspettato e ecco qui ve l'ho portata mia sorella suo migo su chat random su azar ovunque ci saranno delle grandi novità che in questo video non saranno svelate per sbaglio ho trovato un metodo di prank che è completamente diverso da quello che vedete in questo video godetevi questo video lasciate un bel like un commento iscrivetevi al canale seguitemi su tiktok che stiamo andando fortissimi siamo quasi a 100 mila follower sul mio profilo Federico Antoine e su instagram anche Federico Antoine io non mi perderei in altre ghiacchiere guardatevi lo scherzo perché ne vale veramente veramente la pena di vederlo fino alla fine buona visione siamo tornati tesoro madonna mia ce ne sono di più grandi madonna mia buonasera buonasera è bellissima e sexy ma anche tu sei sexy madonna quanto sei sexy è certo che prima ti amo te so madonna mia madonna quanto sei carino oddio madonna mia mi piace molto che cosa vuoi vedere? vorrei leccarti i capelli madonna madonna questo se gli faccio vedere tette mi stira là tutto a posto? buonasera signore buonasera vuole vedere qualcosa? parli un pochino mi dica ma come ciao? dimmi tutto bene? vuole queste? io mi sento un vaso ti so un vasetto guarda qua la lingua come fa oddio ti so grazie vorrei vedermi eh io te vedo vorrei vedermi che cosa ti so ti vedono queste? ma non è che tante volte sai qualche gustino strano tu no? vuoi di queste ti so? stai qui? se te le faccio vedere ti vi ha un infarto? sei sicuro? sei pronto? sei pronto? tutta a posto fare la caramella dell'oribu dacci tua dacci tua ciao ciao è molto bello grazie Federica che stavate facendo di bello? hai trovato guarda che hai trovato ma però voi dovete farmi mettere un motivo per il quale io vi posso far vedere qualcosa però andiamo qui e ammazza così così subito così subito madonna sei uno bello no guarda prima prima prendiamo un po' di confidenza poi mi faccio poi mi tolgo pure le mutande mi tolgo tutto quello che vi pare ah ok però ok fa' come fare lui per qualcosa da tanto tempo non abbiamo riparciato quello spagnolo ah si fate i bravi bravi ma in che senso siete arrabati cioè ce l'avete già no non ce l'abbiamo assolutamente ah avete il bigattino ancora che dorme io lo so anche perché io si sono molto umile ah ok quindi tu ammetti che c'è il bigattino giusto prima cosa è quella bisogna bisogna mettere dei propri limiti tutto a posto nice ti piace o no te so si ho un sacco che stai a fare ti so ammazza ammazza che carina lei ti sento scatti io invece no ti sento bene te so quanto vorrei essere un uomo per farmi trollare da te te lo giudo posso quanto vorrebbe no te so dai ma che non lo vedi guarda che belle bellissima e dai però prestamene un po' te se non ce l'ho dai te so come ti chiami mario madonna che bel nome mario 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 caro cosa vuoi vedere nello specifico tesoro 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 ti piacciono i piedi no non mi piacciono i piedi e tu che vuoi vedere sozzetto oh questo qua sta rapato frasico tesoro madonna sta rapato frasico guarda tesoro ti faccio vedere tutto ti faccio vedere la gamba tesoro la vuoi vedere la mia gamba nooo non c'è credo ci ha schippato non c'è credo ma quest'estate cosa volete fare avete già trovato eh magari ehm magari ci ha bisogno di cliccare dentro hanno rimanchiato due tipe che vengono in francia ma può venire eh ma ai francesi si sa che quelle quelle gli piace solo erbaguettone esatto volete dare una motivazione per farvi vedere qualcosa oppure siamo qui ancora a parlare di francesi e spagnoli no perché allora siamo incitati veramente incitati ok ok ma a voi piace la ragazza rossa bravissimi ragazzi già ci piace questa cultura molto bene sono come la parata di donna roma agli europei sono magica siete pronti ragazzi super prontissimi ci siamo terzi vostra terzi vostra che fa di scassi nel treno bravo di sopra vuoi vedere qualcos'altro vuoi vedere queste sei pronto sei pronto sozzettino sei pronto cavareggiseno sei pronto teso 3 2 1 come ti chiami come ti chiami teso mi scrivi ci mette 40 minuti questa scrive dai come ti chiami luca che bello sei pronto luca ti faccio vedere tutto quanto ti faccio rivivere il mondiale del 2020 vinto dall'italia sono il tuo sogno sono la parata di donna ruma sono il rigore di giorginio a purtroppo l'abbiamo sbagliato però non ti preoccupa sei pronto spero tanto che questo video vi sia laiccato si è contestato invito a lasciare un bel like per un prossimo episodio di federica sul web ragazzi lo stavate aspettando che lo ha portato quindi sostenetelo al massimo iscriviti al canale per restare aggiornato su ogni video che carico attivando la campanellina seguimi su tiktok e instagram con lo stesso nome federico antoine io sono veramente contento che sia arrivato fino a questa parte del video e ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato noi ci vediamo in un prossimo video bella per voi e mi raccomando fate i bravi